Allora, il titolo che io ho proposto è La transizione ecologica prevede la conversione ecologica. Come sapete, con il PNRR noi stiamo intraprendendo, o meglio dovremmo intraprendere la transizione ecologica. Questo discorso che sto per fare ovviamente dice che prima della transizione ci vuole la conversione all'ecologia e quindi deve diventare parte della nostra cultura. Il quadro generale di quello che è la mia argomentazione è l'ontogenesi della conoscenza, ne deve ricapitolare la filogenesi. E detta così sembra una supercazzola, tipo quella di Tognazzi, che diceva parole incomprensibili e tutti gli dicevano di sì, anche se non capivano niente. Che è una strategia abbastanza diffusa, ne parla anche Manzoni con la zecca Garbugli, di mostrare superiorità tecnica e specialistica fondata sull'uso di un linguaggio. abbastanza oscuro che lui chiama il latinorum, ad esempio il latinorum della zecca Garbugli. Dire cose incomprensibili spesso porta ad essere molto rispettati perché uno ha rispetto per quello che non capisce sentendosi inferiore rispetto a quello che sta raccontando la sua storia. e spesso non si ha nemmeno il coraggio di dire non sto capendo per non fare la figura dello sprovveduto. Questa è la legge biogenetica di Echel che dice che l'ontogenesi è ricapitola la filogenesi. L'ontogenesi sarebbe lo sviluppo di un organismo dallo zigote, dall'uovo fecondato fino all'adulto, attraverso tutta una serie di stadi embrionali. Per Echel, e questa è una famosa figura nei suoi libri, ci sono dei passaggi che nell'ambito dello sviluppo di un organismo, cioè la sua ontogenesi, ci sono dei passaggi che attraversano la storia della specie, come la potremmo vedere dai suoi antenati evolutivi e quindi la filogenesi. E quindi noi cominciamo con uno stadio che ci fa sembrare dei pesci, poi sembriamo dei rettili e così via, fino ad arrivare alla nostra organizzazione da adulti. E questa legge biogenetica viene ancora spesso proposta come abbastanza valida ed evocativa e quindi l'ontogenesi ricapitola la filogenesi. In effetti Bomber ha espresso quattro leggi dello sviluppo che dicono esattamente il contrario e quindi che gli embrioni non riassumono quello che è avvenuto nella storia evolutiva della specie, ma si allontanano invece da quello che è appunto la filogenesi che ha portato a quella specie. Non riassumono l'evoluzione ma si allontanano dagli stadi ancestrali. Ora non voglio arrivare adesso a spiegare le quattro leggi di Bomber, la cosa che mi interessa però è che anche se la ricapitolazione è un artefatto di come noi leggiamo la formazione di nuovi individui, quella che chiamiamo l'ontogenesi e rispetto alla storia della specie a cui appartengono questi individui, cioè la filogenesi, il principio può valere se consideriamo lo sviluppo della cultura, cioè l'ontogenesi della cultura nei nostri individui, quindi nella scuola c'è l'ontogenesi della cultura, si forma la cultura. Rispetto a quella che è la filogenesi della cultura, cioè come è nata la nostra cultura, come si è sviluppata per arrivare allo stadio chiamiamolo adulto, tra virgolette, attuale. Noi eravamo cacciatori raccoglitori e abbiamo sviluppato la nostra cultura conoscendo la natura. I cacciatori ovviamente vanno a caccia di animali, i raccoglitori raccolgono vegetali e quindi le due scienze di base con le quali comincia la nostra cultura sono la zoologia e la botanica, sono le prime discipline che sono state sviluppate dagli umani e quindi rappresentano l'inizio della cultura. Questo oltre ad essere intuibile si può anche vedere direttamente nelle prime forme di cultura che noi vediamo attraverso le testimonianze che sono studiate dagli antropologi. Le pitture rupestri sono la prima forma di cultura tramandata e mostrano scene di caccia e rappresentano animali e quindi servivano per trasmettere informazioni sulle specie che si trovavano nelle località abitate dalla nostra specie e anche sulle tecniche di caccia per potersene procurare degli individui da poi utilizzare a scopi alimentari. E quindi la prima forma di cultura riguarda direttamente il mondo che ci circonda, il mondo naturale che ci circonda soprattutto nella sua componente vivente. Ci sarà stata anche ovviamente la mineralogia perché l'età della pietra prevedeva che si conoscessero appunto un po' di minerali per poterli lavorare e ottenere dei manufatti. nella Genesi in effetti questo è abbastanza riportato. Nella Genesi il creatore affida un solo compito ad Adamo, gli porta gli animali perché dia loro un nome e quindi dare il nome agli animali è una sorta di incarico divino, una missione divina. Dare il nome agli animali vuol dire conoscere la natura. Quando noi vediamo qualcosa che non conosciamo la prima cosa che facciamo è le diamo un nome. Diamo un nome anche ai nuovi individui della nostra specie quando nascono. Se troviamo una stella sconosciuta le diamo un nome. Se troviamo una specie sconosciuta dobbiamo darle un nome come ha cominciato a fare l'Inneo in modo formale scientifico nel 1758 per gli animali che prima avevano comunque degli altri nomi ma non erano comuni a tutto il mondo della scienza e della conoscenza. L'interesse per la natura si è conservato nella nostra specie. Wilson lo chiama biofilia cioè amore per la vita per gli esseri viventi. Interesse per gli esseri viventi. I giovani esemplari della nostra specie qui vediamo un gruppo di bambini che è venuto in visita a un museo, al museo di biologia marina di Porto Cesareo. Sono bambini dell'asilo quindi in età prescolare e qui stanno guardando uno squalo porco e lo stanno toccando e se guardate le facce di questi bambini sono molto attirati da quello che stanno vedendo. E quindi si tratta di un istinto ancestrale che si basa proprio sulla filogenesi della cultura. Tutti i bambini hanno una naturale propensione e una naturale curiosità per le cose di natura. Se prendete un bambino lo portate in un bosco, lo portate su una spiaggia, comincerà a portarvi cose e vi chiederà cosa sono. E se glielo dite se lo ricorda e lo impara senza neppure doverlo studiare. E se il giorno dopo gli fate rivedere la stessa cosa e gli dite una cosa diversa quello vi corregge e vi dice ma ieri mi hai detto che era questo. E se lo ricordano per molto tempo. spesso i genitori scoraggiano queste cose, dicono non toccare, non si deve e così via. E quindi i bambini non hanno nemmeno molta paura di queste cose. Il bambino che vedete qui è il... le maestre dell'asilo mi dissero che era il più indisciplinato e il meno responsivo a quello che erano le loro prescrizioni. In questo asilo, in questo asilo, in questa visita al museo si è dimostrato il più interessato e quello che aveva più voglia anche di far capire che lui aveva capito. E qui lo vedete che sta indicando un pesce e mi sta spiegando che cos'è quel pesce. E quindi c'è un'ansia di sapere che è irrefrenabile ed è un bagaglio quasi innato del comportamento della nostra specie. Li portiamo a scuola e la natura sparisce. E quindi ci sono tantissime cose che vengono raccontate ma la natura praticamente non c'è. La cultura impartita a scuola e cioè la formalizzazione dell'ontogenesi della cultura, io la riassumo spesso con i fusi come immobile, una poesia che mi hanno inflitto in diversi momenti della mia formazione e ovviamente le tabelline 6x6 36 e poi i teoremi con la dimostrazione e così via. E quindi scrivere, leggere, far di conto. La conoscenza della natura non è considerata come un contenuto irrinunciabile della nostra formazione. La natura quindi è assente o quasi dai sistemi di formazione. A volte c'è ma è raccontata in modo abbastanza astratto. Per esempio i bambini tornano a casa e non conoscono i nomi degli alberi che incontrano lungo la strada. Se li sanno spesso è perché i docenti sensibili hanno fatto programmi extracurricolari. Però non c'è un addestramento ad osservare la realtà che abbiamo attorno e molto spesso le cose sono molto astratte e quindi i sistemi scolastici mancano abbastanza di concretezza. E l'astrazione che è importantissima però è venuta dopo un approccio più concreto alla realtà che abbiamo attorno. Se non conoscono gli alberi ancora meno gli animali. Questa è una serie di fascicoli che sono venduti in edicola. Ho comprato il primo numero scopri il mondo degli insetti e il primo fascicolo mostra uno scorpione. Sarebbe come dire scopri la letteratura italiana e il primo fascicolo è su Cervantes o su Shakespeare. Gli scorpioni non sono insetti. E' quindi un disastro anche per quanto riguarda la conoscenza degli animali. La zoologia e la tecnica non fanno parte dei nostri sistemi di formazione. Adesso questo è un documento che è di importanza capitale e l'enciclica Laudato Si che secondo me dovrebbe essere letta in tutte le scuole ad esempio nell'ora di religione visto che c'è un'ora di religione alla settimana in tutto il percorso di formazione. In questo documento Francesco fa una cosa secondo me rivoluzionaria. Cioè è la prima volta che un'autorità religiosa di questo calibro chiede la conversione a una scienza. Francesco chiede la conversione ecologica. Sento qualcuno che parla. C'è qualche commento? Se ci sono i commenti io sono a disposizione. Quindi Francesco chiede la conversione ecologica e quindi la conversione all'ecologia. Ovviamente se si chiede la conversione a qualcuno si sta parlando con qualcuno che presumiamo non essere convertito e quindi si presume che la maggior parte della popolazione a cui si rivolge Francesco e Francesco non si rivolge solo ai cristiani o ai cattolici ma si rivolge a tutti. Presume che nella stragrande maggioranza della popolazione questa conversione non sia avvenuta e lui la auspica e la spiega. Devo dire che i frati del Salento quando fu pubblicata questa, io ho passato 30 anni, 31 anni a Lecce e avevo un amico frate e questo frate un giorno mi chiese di andare a spiegare ai frati del Salento l'enciclica perché l'avevano letta e si erano resi conto che era piena di parole che sì magari erano per loro familiari come biodiversità, ecosistema, però si rendevano conto di non essere in grado di capire la profondità del messaggio. Ho passato sei ore con questi frati leggendo l'enciclica e spiegandola passo per passo. Arrivato al capitolo 22 leggo questo passo. Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare. Le piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori, questi a loro volta alimentano i carnivori che forniscono importanti quantità di rifiuti organici i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali. Ora gli ecosistemi non funzionano così e Francesco si dimentica un piccolo dettaglio, a parte che non sono solo i rifiuti organici prodotti dai carnivori a dar luogo a una nuova generazione di vegetali, tutti gli organismi prima o poi muoiono e quello che dà luogo a una nuova generazione di vegetali sono i nutrienti che derivano dalla decomposizione dei corpi che sono morti oppure dai loro rifiuti. Francesco dimentica i batteri. I batteri sono ancora alla base del funzionamento degli ecosistemi. Senza i batteri gli ecosistemi non possono funzionare. All'inizio della storia della vita c'erano organismi semplici simili ai batteri di oggi e non c'era tutto il resto e gli ecosistemi funzionavano con i batteri. Ancora oggi gli ecosistemi funzionano solo perché ci sono i batteri. Anche il nostro corpo funziona se noi abbiamo dei batteri che sono all'interno del nostro intestino. Fra l'altro li chiamiamo flora intestinale mentre si tratta di organismi eterotrofi e non autotrofi. Se sto parlando ai docenti ovviamente sanno la differenza tra eterotrofi e autotrofi. La flora è fatta di autotrofi. La flora intestinale è fatta da eterotrofi quindi volendo potremmo dire la fauna intestinale però sicuramente non una flora. E quindi i carnivori non forniscono importanti quantità di rifiuti organici e vegetali. Francesco ci chiede di convertirci all'ecologia, ce la spiega anche però evidentemente non ha molta familiarità col funzionamento degli ecosistemi. Esiste un'Accademia Pontificia delle Scienze che presumibilmente ha guardato l'eciclica prima che fosse emanata e evidentemente nessuno se n'è accorto. Ho scritto dopo poco, continuando a leggere, Francesco corregge l'errore e dice probabilmente ci turba venire a conoscenza dell'estinzione di un mammifero, di un volatile per la loro maggiore visibilità. Ma per il buon funzionamento degli ecosistemi sono necessari anche i funghi, le alghe, i vermi, i piccoli insetti, i rettili e adesso arrivano i batteri e l'innumerevole varietà di microorganismi. Questo però non corregge completamente l'errore perché sopra i microorganismi non sono menzionati e quindi avrebbe dovuto dirlo lì, il collegamento non è così evidente. In questo passo ci spiega che le specie carismatiche, e cioè il mammifero, il volatile, che sono molto visibili, non bastano per definire la natura. Ho scritto questo articoletto che potete trovare online se scrivete il suo titolo, Cultura senza natura, per l'Enciclopedia Treccani, per questa rivista dell'Enciclopedia Treccani, è ad accesso libero su Atlante, che è questa rivista dell'Enciclopedia Treccani. L'ho intitolato Cultura senza natura proprio perché purtroppo la natura non fa parte della nostra cultura. Ci concentriamo molto su noi stessi e abbiamo poca attenzione per il mondo circostante. La conversione ecologica dovrebbe mettere la natura dentro la nostra cultura, ma perfino chi ci chiede di farlo non è completamente attrezzato. E quindi questa è quella frase che abbiamo visto prima. Ora, la tendenza quindi è quella di associare il concetto di vita marina. Parlo di vita marina perché io mi occupo di quello, ma poi capiremo perché quando si parla di vita, bisogna parlare principalmente di vita marina, sono le forme più spettacolari quelle che ci interessano, i volatili o i mammiferi di cui parla Francesco. Potremmo chiamarle specie o habitat carismatiche, la foca, il delfino, la cernia, la tartaruga, oppure le barriere coralline, oppure fondali marini, presenti anche in Mediterraneo, che assomigliano a una barriera corallina. I posti belli e le specie belle. Questo potrebbe anche essere paragonato a quello che nell'articolo 9 della Costituzione, prima della riforma costituzionale, veniva chiamato paesaggio. Il paesaggio è un'espressione estetica di quello che vediamo nel mondo naturale che ci circonda. La modifica dell'articolo 9 introduce biodiversità ed ecosistemi, che poi sono esattamente la stessa cosa che Francesco ci dice essere molto importante nella sua enciclica. Quindi c'è una convergenza tra la Costituzione e il dettame, il messaggio di Francesco. Non bastano le specie e gli habitat carismatici per comprendere l'importanza della natura. Lo vediamo anche nei parchi e nelle aree protette che di solito sono fatti in posti belli, l'ho messo fra virgolette, insomma, basati sulla percezione di qualcosa che noi consideriamo bello. Tutta la comunicazione che riguarda la natura, centinaia di ore di programmi televisivi dedicati alla natura, hanno la funzione di sollecitare meraviglia e stupore e quindi di farci fare oh. Raramente arriviamo a fare ah e quindi a capire qualcosa della bellezza che ci viene mostrata. Per esempio i fondi sabbiosi quasi mai sono considerati nelle aree marine protette, perché sono meno spettacolari, anche se all'interno c'è una biodiversità che potete vedere in questi cerchi, dove ci sono animali che sono sconosciuti al più. Qui vedete dei gastrotrichi, dei chinorinchi, dei loriciferi, sono tutti fila animali che non fanno parte, la cui conoscenza non fa parte della nostra cultura e che hanno un'importanza invece notevolissima nel funzionamento degli ecosistemi. Ovviamente la colonna d'acqua ci offre occasione di incontri carismatici e quindi per esempio i tonni, i pesci, insomma mammiferi marini e così via. E abbiamo fatto il santuario dei cetacei per proteggere questa forma molto carismatica di espressione della vita marina. Ora, gli oceani coprono il 71% della superficie del pianeta, però gli oceani non sono una superficie, sono un volume. Se moltiplichiamo quel 71% per la profondità media degli oceani che è 3.500 metri ed è abitata da organismi viventi dalla superficie fino alle massime profondità, il risultato è che più del 98% dallo spazio abitato dalla vita è oceano. E quindi non si deve parlare di ecologie e di ecologia marina, ma si deve parlare di ecologia e poi magari di di ecologia terrestre che è un contorno a quello che poi effettivamente è l'ecologia in generale. Il pianeta è vivente perché esiste l'oceano e quindi se vogliamo capire come funzionano gli ecosistemi dobbiamo concentrarci sulla massa oceanica che è quella che permette la vita in tutto il resto della biosfera. E quindi andiamo lì. E se andiamo lì vediamo che esiste un core microbico che è ancora alla base del funzionamento degli ecosistemi. Al centro di questa figura vedete tutti gli organismi che muoiono, quel cerchio nero è il cerchio della morte, quindi la sostanza vivente, la materia vivente, che diventa materia non vivente ma che è ancora organizzata come materia vivente. Noi mangiamo organismi di solito morti, mangiamo una bistecca, è una mucca morta che è stata fatta a fette e poi la digeriamo. Quindi è ancora materia vivente anche se non è più funzionale. Questi organismi ormai morti sono decomposti dai batteri e quindi vedete i batteri in basso a destra rispetto al cerchio nero. Questi batteri decomponendo la materia vivente danno origine ai nutrienti che poi diventano il... Quindi per miliardi di anni la vita ha funzionato in questo modo, le cose muoiono, i batteri decompongono le sostanze viventi, danno luogo ai nutrienti. I nutrienti permettono lo sviluppo di forme unicellulari come di atome e di in officie e così via, che sono i produttori primari che con l'energia solare ridanno vita alla materia non vivente. Ci possono essere dei protozoi che si mangiano i batteri e mangiano il fitoplancton perché questi organismi in sospensione nell'acqua sono appunto il fitoplancton. I virus possono far morire, anzi fanno morire i batteri e li vediamo vicino ai virus. A volte ancora oggi questi organismi microscopici possono dare origine a delle fioriture come le maree rosse che vedete in alto a destra, fatte dai dinoflagellati. Per miliardi di anni la vita ha funzionato così e ancora questo è alla base del funzionamento degli ecosistemi. Il fitoplancton produce metà dell'energia dell'ossigeno che noi respiriamo. Una volta respiriamo per le foreste e una volta respiriamo grazie al fitoplancton che è ancora alla base del funzionamento degli ecosistemi. Poi si sono evoluti organismi più complessi e qui vediamo che ci sono degli animali che mangiano questi microorganismi. Qui faccio vedere un copepode, quindi un piccolo crostaceo, anche esso abbastanza microscopico, non fa parte del paesaggio. Questi piccoli crostacei sono alla base delle reti trofiche perché di essi si nutrono le larve dei pesci che poi crescendo cominceranno a mangiarsi gli uni con gli altri finché poi alla fine possiamo mangiarli anche noi. E quindi questa via dai microbi passa ai piccoli crostacei poi ai pesci e poi agli organismi di maggiore complessità. Questa è quella che noi preferiamo nell'ambito degli ecosistemi marini, questa è la nostra preferita anche perché è quella grazie alla quale ci nutriamo. Fra l'altro in mare noi siamo ancora cacciatori e raccoglitori con la pesca, quindi abbiamo ancora la possibilità di prendere risorse da popolazioni naturali, cosa che a terra non siamo più in grado di fare, tutto si basa sull'agricoltura e sull'allevamento del bestiame. Esiste un'altra via che è quella dei gelatinosi erbivori e qui faccio vedere una salpa, ci sono i tagliacei, le salpe, i pirosomi e così via. Questi sono dei filtratori gelatinosi che appartengono al nostro stesso filum, sono dei cordati e attingono direttamente al cor microbico perché mangiano alghe microscopiche, batteri e eventualmente anche protozoi. Quando fanno questo ovviamente competono con la via dei crostacei perché c'è competizione tra loro i crostacei. Questi già sono totalmente sconosciuti e quindi se in Salento una volta c'è stato un bloom di questi organismi, le catene di salpe possono essere lunghe anche 8 metri e tutta la gente che li vedeva era sconcertata, pensava che fossero serpenti, medusa e cose del genere. Si dice che sono salpe o pirosomi, ovviamente nessuno capisce di che cosa stai parlando. Un'altra via è quella dei carnivori gelatinosi e qui questi li conosciamo, sono le meduse e poi altri che invece conosciamo meno che sono gli ctenofori. Meduse e ctenofori mangiano i piccoli crostacei e mangiano anche le larve dei pesci e quindi messo assieme il funzionamento degli ecosistemi vede questo core microbico con quattro vie, una può essere quella dei microbi che prevalgono sul resto quando ci sono le maree rosse, l'altra è quella di crostacei e pesci, l'altra è quella delle salpe, il plankton gelatinoso erbivoro e l'altra è quella del plankton gelatinoso carnivoro. Quando noi peschiamo troppi pesci e lo stiamo facendo, lasciamo strada alle altre vie, quindi possiamo avere per esempio sempre più meduse e se ci chiedono perché ci sono così tante meduse, uno dei motivi è che ci sono sempre meno pesci e quindi queste vie sono sbilanciate rispetto a quello che sono i nostri Optima. C'è anche poi il sequestro del carbonio, ma qui lascio perdere, anche se in Italia stiamo adesso riprogrammando la trivellazione dei nostri mari per estrarre combustibili fossili, che è qualcosa che va abbastanza contro la transizione ecologica. Se vogliamo vedere questo in un ambito ancora più generale, questo schema ci fa vedere i carnivori che sono poi gli organismi che noi vediamo normalmente nella colonna d'acqua, che si mangiano gli uni con gli altri e apparentemente questi ecosistemi sono fatti solo da carnivori, però tutti i pesci hanno larve e quindi vediamo il cor microbico. In più dove c'è buio, che è la grandissima parte degli ambienti abitati dalla vita, non c'è luce, gli ecosistemi funzionano per la pioggia di detrito che scende verso il fondo. I decompositori, quindi siamo sempre coi batteri, decompongono gli organismi che scendono verso il fondo, si forma la neve marina o particolato di materia organica e poi ci sono i detritivori che al posto degli erbivori diventano il secondo anello, il primo detrito, che regge poi il resto della catena trofica che è a base di carnivori poi in generale. I paesaggi terrestri sono dominati dalla vegetazione e quindi la vediamo, fa paesaggio. In mare la vegetazione sì è presente come alghe e piante marine sulla riva, vicino alla costa, però nella colonna d'acqua la vegetazione non fa paesaggio e vediamo soltanto carnivori. Anche questo apparente paradosso di un ambiente fatto esclusivamente di carnivori non viene neanche percepito come tale e qui poi vediamo l'ossigeno che scende e con le correnti che lo portano in profondità e che generano poi correnti che riportano sui nutrienti per ridare sostanze per la crescita del fitoplancton. In questa figura c'è il funzionamento del mondo, il mondo funziona in questo modo, perché il 98% dello spazio abitato dalla vita funziona così e questo non fa parte dei nostri sistemi di informazione e quindi questo tipo di conoscenza di solito non c'è. Ho messo anche i predatori gelatinosi perché mangiano appunto i crostacei e le larve dei pesci, io mi occupo di meduse e quindi li ho messi all'apice, ma li ho messi perché ci sono, non perché lo dico io, all'apice delle reti trofiche. Tra l'altro le meduse sono gli animali più antichi di cui abbiamo testimonianza nel record fossil, prima ancora dell'esplosione di biodiversità nel Cambriano 500 milioni di anni fa e le meduse di 600 milioni di anni fa sono quasi uguali a quelle di oggi, il che significa che sono organismi che hanno retto a centinaia di milioni di anni di selezione naturale senza dover cambiare. I batteri sono ancora più evoluti, fra virgolette, perché hanno retto a molto più tempo senza cambiare moltissimo. Ho fatto un esperimento di scienza dei cittadini per quanto riguarda le meduse dei nostri mari, ho prodotto questo poster che ha girato in tutta Italia per diverso tempo, anche con la rivista Focus e i bambini erano molto competenti su questo, mi scrivevano le madri dicendomi ma c'è mio figlio che usa i nomi latini, qua ci sono i nomi latini delle meduse e mi dice mamma stai attenta quella punge non toccarla oppure quella lì no, non fa granché la puoi toccare e quindi si preoccupavano che i loro figli fossero così competenti di cose di cui loro non sapevano praticamente nulla. La scienza dei cittadini ci ha permesso di sapere chi è presente nelle nostre acque perché queste cose non erano neppure molto coperte dalla ricerca scientifica finanziata nel nostro paese e anche dove queste cose si potevano trovare. Anno dopo anno abbiamo ricostruito grazie al contributo dei cittadini la distribuzione di questi organismi lungo le coste italiane ed è stato uno dei primi se non il primo esperimento di scienza dei cittadini in ambito marino e quindi sono stati chiamati i cittadini a contribuire alla ricerca scientifica con le loro osservazioni. Le meduse si prestano molto a questo perché sono grosse non scappano se ci avviciniamo e ci accorgiamo della loro presenza spesso in modo bruciante. Se avessi chiesto il copepodi ovviamente nessuno mi avrebbe risposto perché sono difficili ovviamente da vedere. Ora l'ignoranza delle cose di natura riguarda anche il funzionamento del nostro corpo. Io per anni ho insegnato per più di 30 anni all'università al primo anno zoologia e davo per scontato che certe cose fossero conosciute a studenti che avevano fatto la maturità e quindi avevano attraversato 13 anni di istruzione formale. Questa pubblicità ci fa vedere una bellissima donna che beve tanta acqua e fa tanta plin plin e c'è l'acqua che libera l'acqua, puliti dentro belli fuori. A un certo punto ho cominciato a chiedere ai miei studenti il primo giorno di lezione, bevete un litro d'acqua e poi fate la plin plin. Che strada ha fatto l'acqua? E chiedevo chi pensa di essere in grado di rispondere a questa domanda alzi la mano. Prometto che poi non vi chiederò di spiegarmelo. Vi assicuro che in vent'anni nessuno ha mai alzato la mano, se non una ragazza che mi ha detto che abbiamo due apparati digerenti, uno per i solidi e uno per i liquidi, perché io cominciavo le mie lezioni scrivendo pipì popò, da dove viene la pipì, da dove viene la popò. E quindi domande da bambini piccoli. E questa mi dice abbiamo due apparati digerenti, uno per i liquidi e l'altro per i solidi. Quando beviamo va nel tubo dei liquidi, esce la pipì e quando mangiamo va in quello dei solidi, esce la popò. Se ci va qualcosa per traverso è perché l'acqua è andata nella direzione del cibo oppure il cibo è andato nella direzione dell'acqua. Tutti ridevano ma nessuno sapeva rispondere. Questa ragazza in effetti aveva fatto quello che di solito fa la scienza. Aveva identificato l'ignoranza, si era resa conto di non saperlo e aveva elaborato un'ipotesi, l'ipotesi dei due apparati digerenti. La scienza fa questo, identifica l'ignoranza e poi elabora risposte per diminuire questa ignoranza. Poi la sottopone a verifiche sperimentali. Se vedi che non funziona, allora cerchi un'altra spiegazione. Ma se non sai di non saperlo, o se credi di saperlo, ovviamente non diminuirà mai la tua ignoranza. Ora, per rispondere alla domanda dell'APPI bisogna conoscere l'apparato digerente, bisogna conoscere l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, il metabolismo cellulare, l'apparato escrettore e un po' di sistema endocrino. Queste cose sono presenti nei programmi scolastici, in capitoli differenti e sono spiegate una per una. Raramente vengono messe assieme, per cui uno sa tutti i pezzi, ma non sa poi ricomporli, metterli assieme e trasformare le informazioni in conoscenza. Io sono stato molto sfortunato nei miei vent'anni in cui ho fatto questa domanda, ma nessuno dei miei studenti è stato in grado di mettere assieme queste cose e di spiegare cosa succede quando facciamo l'APPI. Poi se dico DNA, sanno adenina, timina, citosina, sanno anche che c'è l'uracilene, l'RNA, sanno dimostrare i teoremi, sanno i fusi come immobile dato il motoro sospiro, però sanno il concetto di provvidenza di Manzoni, il fanciullino, però non sanno l'APPI e quindi non conoscono il funzionamento del loro corpo, così come non conoscono il funzionamento degli ecosistemi, nemmeno il Papa lo sa, che pure cerca di spiegarcelo. E quindi c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che non... soprattutto nel mettere assieme le cose. Quello che avete visto nel funzionamento degli ecosistemi è esattamente simile a quello che vediamo qui nel funzionamento del nostro corpo. Ci sono tanti pezzi che poi interagiscono e fanno funzionare il sistema come un tutt'uno. L'approccio riduzionista divide una cosa complessa in cose più semplici e le considera una per una e va benissimo, però poi bisogna ricomporle e metterle assieme. E invece abbiamo parcellizzato la conoscenza, secondo me è sbagliatissimo anche fare le materie con i compartimenti stagni tra una e l'altra e quindi diventa difficile poi capire effettivamente il mondo che ci circonda. Quindi non sappiamo come funziona il nostro corpo, non sappiamo come funzionano gli ecosistemi e non conosciamo la diversità dei viventi. La diversità dei viventi è proprio la biodiversità e cioè è l'argomento di questa serie di lezioni. La nostra cultura quindi è nata dallo studio della natura e poi abbiamo elaborato astrazioni. La cultura si deve formare per induzione, prima l'osservazione e poi possiamo fare delle generalizzazioni. È il modo con cui impariamo anche a parlare. Prima parliamo, poi impariamo le regole. Se ci spiegassero le regole della grammatica, della sintassi, prima di farci parlare non impareremmo mai a parlare. E quindi la deduzione è ovviamente un forte strumento di indagine, ma non per l'apprendimento. L'apprendimento deve essere induttivo e quindi è inutile dire ora studia poi vedrai che ti servirà. Uno deve capire immediatamente e deve corrispondere quello che studia con quello che lo circonda. Poi può cominciare a fare astrazioni. A un certo punto la grammatica e la sintassi vanno studiate, ma si studiano quando già parliamo e le usiamo senza nemmeno sapere di saperlo. I bambini e le bambine dovrebbero iniziare la scuola con l'osservazione della natura e lo farebbero con grande piacere come quel bambino che si era entusiasmato nel vedere il Museo di Biologia Marina. Invece noi presentiamo lo studio come un sacrificio. Vittorio Alfieri che si incatena alla sedia con volli sempre volli, fortissimamente volli e quindi deve essere un sacrificio. Per me non deve essere un sacrificio, deve essere un piacere apprendere. Però dipende da come te lo presentiamo, da come viene presentato e da che cosa viene presentato. C'è una gradazione che non è seguita, che non corrisponde alla filogenesi della nostra cultura. Per essere efficace quindi l'ontogenesi della cultura ne deve ricapitolare la filogenesi. Dobbiamo cominciare osservando la natura e poi possiamo arrivare alla letteratura, alla matematica, a tutto quello che volete. Però fra l'altro il più grande contributo alla nostra visione del mondo viene proprio dal lavoro di un naturalista, questo signore che si chiama Charles Darwin. Con l'origine delle specie e l'origine dell'uomo Darwin ha cambiato la nostra visione del mondo, più di qualunque altro filosofo che viene insegnato nei corsi di filosofia. L'origine delle specie spiega, fonda più la teoria dell'ecologia che è quella dell'evoluzione, perché Darwin non conosceva la genetica e oggi molta evoluzione si fa con la genetica. La selezione naturale è ecologia. Darwin spiega nell'origine delle specie la differenza tra fisica e storia naturale. Darwin era un naturalista e ha basato la sua teoria sia sull'osservazione sia su esperimenti. Non con la matematica comunque, non usa la matematica Darwin. Spiega la differenza tra fisica e storia naturale con questa metafora. Getta in aria una manciata di piume e tutte cadranno al suolo secondo regole ben definite. È la gravitazione universale di Newton, Galileo e quindi a fisica. Continua però e dice ma com'è semplice questo problema se confrontato con le azioni e reazioni delle innumerevoli piante e animali che hanno determinato nel corso dei secoli, e quindi c'è la storia, i numeri proporzionali e i tipi di alberi che ora crescono su queste antiche rovine indiane e questa ecologia. La fisica, secondo Darwin, affronta problemi semplici e quando affrontiamo problemi semplici possiamo trovare delle leggi ben definite. Quando passiamo a problemi complessi, tipo quello che spiega la formazione di una foresta, beh non c'è l'equazione della foresta e quindi dobbiamo passare ad altri modi di osservare, descrivere, interpretare, capire il mondo che ci circonda. La transizione ecologica deve portarci a questa consapevolezza. Non c'è niente di male nella fisica, va benissimo, ha tutta la sua dignità, però è fisica. Quando passiamo ad altro dobbiamo settarci su registri differenti. Questa signora ha tolto l'evoluzione dai programmi, ha proposto di togliere l'evoluzione dai programmi della scuola dell'obbligo e abbiamo cominciato a celebrare il Darwin Day proprio per reagire a questa proposta. Proposta che è stata suggerita da quest'altro signore che è proprio un fisico e ho messo però un punto interrogativo vicino a scienziato perché scrisse che l'evoluzione non è una scienza perché non c'è l'equazione dell'evoluzione. Questo è anche uno degli articoli che Zichichi pubblicò, l'evoluzione non è una scienza e non è una scienza perché non c'è l'equazione. Non funziona così. Non c'è l'equazione della foresta, però questo non significa che allora la scienza che studia le foreste non sia scienza e lo stesso succede con l'evoluzione. Quindi questo è qualcosa che mina ancora le fondamenta della nostra trasmissione della conoscenza. Io ho fatto liceo scientifico, ma liceo scientifico quando l'ho fatto io, mia figlia poi ha fatto liceo classico, non ci sono grandi differenze rispetto al liceo classico se non che al posto del greco c'è la matematica, però di natura ce n'è comunque pochissima e quindi sembra che la scienza sia la matematica e la fisica, forse anche un po' di chimica. Non bastano queste, sono importantissime, ma non bastano. Di ecologia me ne hanno fatta veramente pochissime e neanche di zoologia e di botanica e quindi di biodiversità. Cos'è un pirosoma? Non lo sanno quelli che escono dal liceo. E quindi dobbiamo introdurre la natura nella nostra cultura. Attualmente nei programmi di formazione non c'è. Se c'è, non riceve comunque l'importanza che merita, non esiste che ci sia un esame di maturità in cui si parli di queste cose, si chiedano queste cose. Nell'iceo scientifico c'è il tema che di solito è di tipo letterario, di attualità e poi c'è il compito di matematica. Difficilmente ci sono argomenti che riguardano la natura. Ora, i fisici, oltre a zichichi, hanno anche proposto delle cose che sono veramente strane, questo è Stephen Hawking, che ha denunciato il fatto che stiamo distruggendo il pianeta, cosa con cui concordo completamente, però ha proposto di risolvere il problema colonizzando altri pianeti. E nessuno ha reagito a questo. Nessuno ha reagito a questa cosa. Il pianeta B non c'è. Però noi stiamo investendo quantità di risorse enormi per trovare esopianeti e per colonizzare altri pianeti. Poi non sappiamo quante specie ci sono sul pianeta, quali sono e cosa fanno per far funzionare gli ecosistemi. Noi siamo vivi perché esiste la biodiversità e esistono gli ecosistemi. Stiamo dedicando più risorse e più intelletti a rispondere a problemi che non sono direttamente connessi con la nostra sopravvivenza, tipo la vita sugli altri pianeti o la colonizzazione di altri pianeti, di quanto non facciamo per rispondere a domande che riguardano la nostra sopravvivenza. Un fisico che è stato anche presidente della Royal Society, Lord Robert May, ha pubblicato, quando ha cominciato a fare ecologia, un articolo su Nature intitolato Simple Mathematical Models with Very Complex Dynamics e quindi ha prodotto qualche formula che introduce la teoria del caos in ecologie. Dopo dieci anni ha pubblicato un altro articolo intitolato How many species are there on Earth? E quindi ha detto ma noi non sappiamo nemmeno di che cosa stiamo parlando. La domanda più importante a cui dobbiamo rispondere è questa, e l'ha detto un fisico che era anche presidente della Royal Society. Noi stiamo dedicando pochissime risorse per rispondere a questa domanda, anche se è proprio grazie alla biodiversità che noi possiamo sopravvivere e vivere. E quindi questa è una contraddizione logica che dovrebbe essere percepita. e infatti Francesco parla tantissimo di biodiversità nella sua enciclica che chiede la conversione ecologica. L'informazione quindi non è conoscenza. Il funzionamento degli ecosistemi o il funzionamento dei nostri corpi. Probabilmente abbiamo le informazioni che riguardano i singoli pezzi che riguardano il funzionamento degli ecosistemi e il funzionamento del nostro corpo. Ma è quando li mettiamo assieme che diventano conoscenza. E quindi dobbiamo cercare di passare dal bagaglio di informazioni che spesso sono forse addirittura eccessive nei loro dettagli e dobbiamo puntare di più sulla conoscenza. Gli approfondimenti poi potranno anche venire. La cosa strana è che alcuni studenti che non sapevano rispondere alla domanda della pipì sapevano l'ultrafiltrazione del rene e del glomerulo di malpighi e anche la formula dell'urea. Però non sapevano come si formava la pipì dall'acqua che noi beviamo. E quindi questo è di nuovo un secondo me un errore di impostazione dell'educazione dei sistemi formativi che andrebbe corretto passare dalla fase in cui ci sono astrazioni che dopo ci serviranno quando ci confronteremo con la vita al confronto diretto con la realtà che poi deve portare alle astrazioni. E la stessa cosa forse meno informazioni ma più conoscenza. Poi gli approfondimenti si possono fare però ci deve essere una visione generale che attualmente manca. Se passiamo alla sostenibilità perché adesso la transizione ecologica mira alla sostenibilità tutte queste cose sono ancora più evidenti. Molto spesso la sostenibilità è mostrata in questo modo c'è la sfera sociale dove qui sono elissi, la sfera economica e la sfera ambientale e hanno piccole sovrapposizioni tra loro. La sostenibilità è il punto di interazione tra queste diverse componenti della nostra società, della nostra economia e del nostro vivere. Questa rappresentazione è profondamente sbagliata. Quella vera è questa. C'è l'ambiente, all'interno dell'ambiente c'è la società e all'interno della società c'è l'economia. E quindi la società e l'economia non possono esistere senza l'ambiente. l'ambiente esisteva prima che ci fossero la società e l'economia. E quindi la supremazia logica di quello che noi dobbiamo sapere dovrebbe essere proprio l'ambiente. Invece questo proprio non c'è. E in effetti possiamo anche ritradurlo con la sfera ambientale, la sfera sociale, la sfera economica. Sono tre sfere e queste righe che partono con le frecce che arrivano al centro sono le leggi che governano questi sistemi. Le leggi della natura, le leggi della società e le leggi dell'economia. In effetti quello che oggi vale nella nostra impostazione della società sono le leggi dell'economia che prevalgono sulle leggi dell'ambiente. Le leggi dell'ambiente però non sono eludibili. Se noi inventiamo leggi economiche che vanno contro le leggi dell'ambiente andiamo incontro al fallimento e ci mettiamo contro la natura. Fra l'altro non l'ho messo nella presentazione però ci vuole poco a spiegarle. Le leggi della natura sono essenzialmente due. Sono spiegate nell'origine delle specie. Una dice tutte le specie tendono ad aumentare di numero attraverso i processi riproduttivi e quindi noi misuriamo il successo di una specie in base alla quantità di individui che la rappresentano con cui si esprime nella biosfera. Le specie di maggiore successo sono quelle più abbondanti e quindi è la legge della crescita che è anche la legge che hanno elaborato gli economisti. La seconda legge della natura però dice anche se tutte le specie tendono ad aumentare di numero non tutte possono farlo perché non ci sono risorse sufficienti perché questo avvenga e questa è la legge del limite e quindi da una parte tutte le specie tendono a crescere però la natura limita questa crescita e le specie di maggiore successo quelle che hanno più individui sono quelle che col consumo delle risorse che permettono la loro vita creano le premesse per il loro insuccesso perché erodono i pilastri che le sostengono consumandoli e noi oggi siamo la specie di maggiore successo. Per gli economisti se la crescita del capitale economico si interrompe c'è la stagnazione se decresce il capitale economico c'è la recessione per cui l'unica cosa che vedono come positivo è la ovviamente considerano esternalità le erosioni del capitale naturale. Esternalità vuol dire che le mettono al di fuori delle analisi costi benefici. Dobbiamo internalizzare l'erosione del capitale naturale con cui paghiamo la crescita del capitale economico anche perché il capitale naturale è più importante del capitale economico la transizione ecologica avverrà quando avremo capito questo nel sistema nella nella figura A vediamo il mondo come effettivamente è e nella figura B vediamo il mondo come noi lo stiamo concependo con la sfera economica che domina su quella sociale e su quella ambientale. La transizione ecologica significa passare da B ad A però per fare questo dobbiamo sapere come funziona l'ambiente e anche come funziona l'economia. Fra l'altro Darwin non usa la parola ecologia la parola ecologia è stata inventata da Echel è stata proposta da Echel qualche anno dopo la pubblicazione dell'origine delle specie nell'origine delle specie c'è economia della natura l'economia della natura è l'ecologia e quindi è sempre economia e noi abbiamo disgiunto l'economia nostra dall'economia della natura e questo è un gravissimo errore concettuale e anche proprio materiale non possiamo pensare che ci sia una nostra economia diversa dalla economia della natura e non possiamo elaborare leggi economiche che vadano contro le leggi della natura. Le leggi della natura non sono spiegate nei nostri percorsi scolastici e quindi non abbiamo le norme che ci permettono di capire come funziona l'ambiente attorno a noi e quindi chi è che lo sa che i copepodi sono gli animali più importanti del mondo? Di solito non si sa nemmeno come che cosa sono, che esistono e quindi come possiamo rispettare quello che non conosciamo. Ci si chiede di rispettare la natura, si parla tanto di biodiversità ma le conoscenze sulla biodiversità sono ancora incomplete anche per quelli che studiano la biodiversità, non parliamo di quelli che non la studiano. La stima è che ci siano 8 milioni di specie sul pianeta, abbiamo dato il nome soltanto a 2 milioni di specie e per la maggior parte delle specie a cui abbiamo dato il nome, non sappiamo come si riproducono, non sappiamo cosa mangiano, chi le mangia e qual è il loro contributo al funzionamento degli ecosistemi. Il che significa che stiamo muovendoci come elefanti in un negozio di cristalleria e non sappiamo che i cristalli sono molto fragili. se non ci sarà una consapevolezza del mondo che ci circonda, del mondo naturale che ci circonda, non avremo la possibilità di attuare la transizione ecologica e questo ci metterà nei guai. non siamo così forti da poter andare contro la natura e quindi la natura, questo l'ha detto Giovanni Paolo II, la natura si ribellerà a quello che le stiamo facendo e stiamo vedendo che con il riscaldamento globale questo sta già succedendo. Quindi la transizione ecologica si deve basare su profonda conoscenza della natura e questo richiede una conversione ecologica. Gli attuali sistemi formativi non hanno questo obiettivo, hanno altri obiettivi che sono nobilissimi e sono importantissimi e io non nego che siano necessari, però mancano le basi. La base del nostro vivere non viene insegnata. Anche se i giovani esemplari della nostra specie avrebbero una grande ansia di capirla, questa ansia viene tarpata quando arrivano a scuola e molto spesso ci si riesce e quindi si perde anche questa curiosità. Una confessione, io sono sempre stato rimandato dalla prima media fino alla quinta liceo, sono stato anche bocciato due volte perché mi ribellavo a questo tipo di in posizione della cultura. Volevo altro, erano altri libri che leggevo, erano altre le cose che facevo. Le ho trovate all'università e lì non ho avuto nessun problema. Hanno cercato di cambiarmi e non ci sono riusciti. Però vedo che nella maggior parte delle persone questo invece avviene. Nell'offerta politica nel nostro paese non esiste nessun partito che proponga questi valori come valori fondativi. Quando è stato fatto il Ministero della Transizione Ecologica si è intrapresa esclusivamente la transizione tecnologica. Però abbiamo pensato di fare la transizione ecologica senza l'ecologia e adesso stiamo continuando. E quindi c'è qualcosa che non funziona e questo è dovuto al fatto che non c'è la natura nella nostra cultura. e dobbiamo fare in modo di mettercela.